Amici, eccoci qua. Buonasera. Buonasera. Siamo ritornati di nuovo al fiume, una piccola pescatina a siluri, con il mio amico Ivan, qua il Terribile. Questo è un silurista un po' particolare. Proviamo a prendere qualche siluro oggi. E niente, la giornata è buona. Speriamo che abboccherà qualche silurotto. Ci proviamo. Va bene? Va bene. Ragazzi, un saluto, a dopo. A dopo. Ragazzi, un saluto, a dopo. Ragazzi, un saluto. Ragazzi, un saluto.